Quello che è bello che abbiamo fatto insieme e che ci tengo a dirlo a tutta la cittadinanza è che stiamo offrendo alle donne possibilità di partorire in entrambi i presidi, in modalità anche libera, anche utilizzando il part in acqua, questo sul presidio di Pesaro, utilizzando il parto in posizioni alternative su entrambi i presidi e chiaramente avendo anche una buona diagnosi prenatale. Quello per cui diciamo ormai siamo arrivati ad essere molto bravi integrandoci con i nostri anestesisti che sono tutti chiaramente eccellenti, stiamo garantendo la parto analgesia H24 su entrambi i presidi con un livello assistenziale direi ottimo e per questo mi sento soddisfatta. Quello che mi dispiace purtroppo è che le donne sempre di più giungono a raggiungere la prima gravidanza in età avanzata, chiaramente questo determina un alto rischio, un aumento del rischio che è fisiologico.